Direzione piazza La Bicocca. Larga La Bicocca. Per andare dalla signora? La donna Carmela. La donna Carmela a mangiare le scagliezze. I famosi scagliezze. Abbiamo ordinato intanto il nostro primo scagliezze. Che scagliezze. Il famoso scagliezze. La famosa scagliezze. Farina di? Mais. Certo, se cucina Romina non si mangia oggi. Meno male che c'è donna Carmela, sennò qua non si mangiava oggi. Ecco, la prima lezione dello scagliezze dalla signora Carmela a Romina. E a Roma faremo un negozio di scagliezze. Saranno i più buoni che ha mai fatto la signora Carmela. È l'ora delle scagliezze. Adesso assaggiamo queste bellissime frittelle di potenza fritto. Le famose? Le famose popizze. Appena fatte. Oh, popizze. Popizze. Appena fatte. Appena fatte. È zitto. Questo è il profumo della fragola qui. Come si chiama questo? Fragolino. Fragolino. A due a due. Carmela, a triggio. E non è nuda, ma come serve a fare. Diamo un portato. E a qua. Oh, me! E' leggerissima col cortello e le due dita a tondare. E' un po' difficile in un giorno. Questo pollice solo. E le tue dita leggermente lo devi tondare. Aspetta. Vai più su. Se lo fai così, sì. Ah, perché stingo troppo certe volte. Sì, il cortello lo tiene molto... Vedi? Ah, vedi che bello. Vedi? Questi si fanno così e diventano vecchioni. E ora ti faccio vedere questi qua, guarda questi. Ah, vedi? Guarda questi come sono piccolini e piccolini. E questo è il famoso cavatello, vedi? Però è più stancoso a farli. Fine del tour del giorno numero uno. Diciamo il giorno numero uno, abbiamo fatto questo piccolo tour e adesso ci andiamo a godere un pochettino Bari nascosta e ci andiamo a perdere nei piccoletti. Grazie. Grazie.